Le vecchissime mille lire, bellissimi ricordi, beh, per noi più stagionati. Ma signori, sapete che le vecchie mille lire che ritraggono Maria Montessori, quella signora disegnata sulle mille lire, è una delle figure italiane più apprezzate di sempre. E infatti la signora, la signora stampata, è una scienziata, è stata scienziata, educatrice, pedagogista, medico, filosofa, neuropsichiatra, insomma un po' di tutto di più. Pensate che lei ha sviluppato il famoso metodo educativo che porta il suo nome, ormai approdato in tantissime scuole dell'infanzia in Italia e in Europa. Un metodo che pone l'importanza nell'apprendimento pratico da bambino. Eh sì, il metodo Montessori, no? Maria Montessori è stata anche tra le prime donne italiane a laurearsi in medicina, tanto che addirittura lo Stato le ha assegnato un posto d'onore proprio come riconoscimento. La Montessori appare in una delle banconote più comuni della vecchia lira ed il suo volto è rappresentato in centinaia di milioni di esemplari. Cioè, sempre lei, ma fatta in versioni completamente sempre diverse. La banconota da mille lire ritrae il volto di Maria Montessori, riprodotto in età avanzata sulla parte destra. Nella raffigurazione la nota educatrice sorride lievemente e porta i capelli legati. Il suo nome, invece, è riportato in stampatello vicino al bordo del lato corto, in verticale. Sulla banconota ci sono moltissimi colori. Inoltre porta il numero di serie in basso rappresentato su entrambi i lati. E il valore nominale, sia a lettere che a numero, attraverso la scritta che recita mille lire, mille lire, mille, si trova nella parte alta. Sulla banconota ci sono chiaramente anche la firma dell'ex presidente della Repubblica, Carlo Azeio Ciampi, e quella del cassiere. Al centro, poi, si trovano il contrassegno di Stato, cioè il leone di San Marco e le repubbliche marinare, e il profilo di un infante sulle parti più colorate. Insieme a quest'ultimo, insieme all'infante, si possono notare in evidenza anche delle tessere di puzzle. Ma di tutto ciò, ma quanto valgono oggi le mille lire? Cioè, se io detengo una vecchia mille lire nel cassetto, dimenticata, o che ce l'abbia messa apposta, ma quanto può valere? Come quelle odierne, diciamo che si stabilisce a seconda del numero di serie che riporta. Esistono, ad esempio, delle serie che sono state create come sostitutive, appunto, per andare a rimpiazzare dei pezzi difettosi. La cosa curiosa è che si riconoscono facilmente grazie alla prima lettera del numero di serie che riportano, cioè, la X. Tutte le banconote da mille lire che iniziano per XA, XB, XC, XD, e potremmo andare all'infinito per tutto l'alfabeto, possono valere fino a 200 euro per banconota. L'importante è che ci sia la X davanti. Quindi, attenzione ai collezionisti, perché potrebbero essere molto interessati a questo. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro di fare tanti affari con le vecchie mille lire, andatele a cercare nei vecchi cassetti o negli scantinati più voi, e mi raccomando, fate un sacco di grana. Io vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima per un nuovo video.